Ho partecipato al tavolo nazionale per TLC dieci giorni fa, in rappresentanza di tutti i comuni di Italia e adesso noi chiediamo al governo nazionale di convocare subito, come ci avevano assicurato, un tavolo nazionale di crisi che riguarda esattamente gli esuberi a Palermo, a Roma, a Napoli perché vogliamo che la vicenda palermitana sia una vicenda nazionale, affrontata in sede nazionale perché la crisi è crisi di sistema, quello aggravante che è Palermo è la città che ha il maggior numero di addetti del settore sui 80.000 addetti del settore in tutta Italia, quasi 10.000 in Sicilia e quasi 8.000 a Palermo.